È considerata una delle migliori giornaliste a raccontare episodi di cronaca nera. Questa volta a suo malgrado è stata costretta a scrivere di se stessa. Stiamo parlando della collega di tgregione.it, portale di informazione, Letizia Tassinari, che ieri sera, pochi minuti prima delle 22, mentre a bordo della sua auto stava percorrendo la via Virgilio all'incrocio con il via Aldi e Tigli, ha subito l'aggressione da parte di un uomo armato di coltello. Mi sono sentita battere al vetro lato passeggero della mia auto, mi sono quindi girata e ho visto una persona con i capelli rasta, carnato scuro, magro, che mi batteva al vetro con un coltello. Non ci ho pensato un attimo, ho dato gas alla macchina e sono partita a razzo. Nonostante faccia cronaca nera non è stato un episodio così molto tranquillizzante, anche perché non era le tre di notte, erano nemmeno le dieci di sera di un giorno festivo per l'agosto. Paura? Sì e no, perché nel momento l'adrenalina è talmente alta che pensi andare via di corsa e a caldo le sensazioni sono sì, tachicardia forte, poi per fortuna non mi è successo nulla, non so cosa volesse da me. La collega ha denunciato il tutto agli agenti del commissariato di polizia di Viareggio, impegnati nelle indagini, ci sarebbe già un sospetto. Anche se è stata una frazione di secondo l'ho vista in faccia. Magro, capelli rasta, carnato olivastro scuro, tra i 25 e i 30 anni.